Ok, adesso vi insegno a navigare su YouTube Map Explorer, scrivete sulla barra di Google questo e troverete proprio questo. Io lo apro, l'ho già condiviso. Bene, allora questo sarebbe il Google Map Explorer e tutta una schermata scura, se potete girare il mondo quanto vi pare. Allora, in ogni punto che cliccate con il tasto sinistro, non è importante se Venezia o no, andiamo, si apre un video di YouTube naturalmente. Perfetto, chiudiamo, andiamo in qua vicino. Perfetto, andiamo in Croazia, clicchiamo in qualsiasi posto. Ok, si va su un altro posto. Ad esempio, vogliamo andare a Tokyo. Qua siamo attacchi in Giappone, bene. Clicchiamo sul qualsiasi posto. Mi ha dato già l'asterisco Tokyo. Andiamo qua. Vediamo chi c'è. Poi vi mostro. Andiamo qua a Hiroshima. Tanto per fare le cose. Per dare una dimostrazione. bene. Possiamo andare in Cina, per esempio. Cina. Qualsiasi posto vada Cina. Vediamo. Faccio "... Faccio herkesi postoalle questa cosa del video. Faccio Adesso a questo punto io clicco qua su YouTube e siamo su YouTube, semplice, no? Ok, bene, chiudiamo il tutto, andiamo fuori, guardo sulla mia pagina Facebook, adesso andiamo a trovare GeoSearch Toll, tol, tol, quello che vi sembra, vediamo qua, voi scrivete nella barra, eccolo qua, la schermata è nera, voi potete scrivere qua, qualsiasi posto, luogo, locazione, luogo, locazione, allora io metto Ormelle, poi vediamo la motivazione, perché io abito a Ormelle, Previso, cerca, faccio un po' mettere anche le ultime 24, 48 ore, lo siamo libero di sua scelta, come si vede, abbiamo la locazione qua di Ormelle, Clicco sopra Ormelle, questo è un mio video Torniamo a vedere qua, possiamo cliccare, come vedete, nella zona di Ormelle, possiamo anche ingrandirla Ho un'estensione che mi fa scorrere troppo velocemente il mouse, ormelle, vediamo quanti ce ne sono, 50, 90, 80, bene, ad ogni modo qua, come vedete, Ci sono tanti video che hanno postato chi è nei pressi di Ormelle, quindi anche Gino Espressivo, eccolo qua, tutto quello che vedete, io ho postato questa zona di Ormelle, Allora io sono Gino Espressivo e sto facendo un video con Atul Cacter, che sarebbe questo D'accordo, proviamo a trovarne un altro, anzi no, vediamo in giro però verso la città, clicchiamo qua E poi lei, andiamo a prenderci un paio di pizzette, un paio, no ma un paio Sono i ragazzini che postano un solo YouTube, qualche video, quindi ti faccio vedere, sono questi del sistema Se vi interessa, io chiudo Eccolo qua Poi scrivete YouTube Map Explorer E Geo Search Toil Ok, chiudo, ci saluto tutti Adesso vado a fare un giro in bicicletta Bye Bye Anzi back Anzi back